buongiorno amici di fisio go questo è un breve video on the road ma solo e semplicemente informativo per aggiornarvi su alcuni cambiamenti fisio go ringraziando dio sta crescendo adesso abbiamo ultimato alcune partnership o alcune aziende tra cui vettore medical che chi mi segue sa perfettamente che settimana scorsa ero in sede da loro per aiutarli a promuovere questo nuovo programma di gestione di studi fisioterapici poliambulatori come tutti quanti ben sapete a me piacciono i programmi gestionali ma non perché sono un nerd assurdo ma per il semplice fatto che penso che qualsiasi attività una persona abbia deve per forza comprare un programma gestionale per tenere sotto controllo i prezzi per tenere sotto controllo tutte le informazioni che riguardano il proprio studio fisioterapico in modo tale che tenendo sotto controllo i dati possa comunque creare strategie per aumentare il proprio business per ridurre i costi e aumentarne comunque i profitti e tra tutti i software che comunque io ho visto potuto chiare sul mercato vettore medical mi è sembrato comunque il il più completo in termini proprio di moduli da inserire all'interno per gestire a 360 gradi proprio tutta la struttura fisioterapica dal management al planning al crm alla gestione dei pazienti alla gestione dei fisioterapisti alla gestione dei medici e tutto quanto quindi da non lunedì questo che viene ma il prossimo ancora le puntate saranno fatte in collaborazione con vettore medical dove daremo alcuni consigli su come gestire comunque lo studio fisioterapico ma allo stesso tempo vi faremo vedere come vettore medical può aiutare a semplificare e migliorare la gestione del vostro studio fisioterapico o poliambulatorio quindi come sempre ci vediamo al prossimo video e non fate caso ai miei capelli perché per fisio forum lì taglierò anche perché attualmente ho una cofana di capelli alla bobbisoro con questo video vi invito anche a partecipare se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi a fisio forum perché in quei giorni siamo tutti quanti lì per questo nuovo e grande evento quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti